Benvenuti su Gossip Italia 24. Prima di raccontarvi cos'è successo, sosteneteci lasciando mi piace al video e iscrivendovi al canale. Per noi è molto importante, grazie. In questo video affrontiamo un evento che ha profondamente colpito il mondo della televisione italiana. Una perdita improvvisa e inaspettata, che ha lasciato sgomenti alcuni dei volti più amati dal pubblico. Tra cui Jerry Scotti, Moe Vinier e Barbara D'Urso. I loro messaggi sui social trasmettono un sentimento di smarrimento e profonda tristezza. La persona al centro di questo dolore non era una figura davanti alle telecamere. Ma la sua presenza era percepibile in ogni programma e nei sorrisi di chi, da anni, entra nelle nostre case attraverso lo schermo. La sua improvvisa scomparsa ha creato un vuoto difficile da colmare, e i dettagli resi noti sono pochi. Uno in particolare rende questa perdita ancora più amara. Aveva solo 42 anni. A ricordarla sono stati amici e colleghi che, con dolore, hanno descritto una professionista instancabile, una collaboratrice seria e affidabile, ma soprattutto una persona amata e rispettata da tutti. Ma chi era? Parliamo di Silvia Pizzi, hair stylist di spicco nel mondo dello spettacolo, nota soprattutto per il suo lavoro con i VIP di Mediaset. Silvia si è spenta a soli 42 anni a causa di una malattia. La sua figura, discreta ma essenziale, era un punto di riferimento per molti personaggi dello show business. Lascia un grande vuoto nella vita del suo compagno Marco e della sua famiglia. E tu, cosa pensi di questa vicenda? Condividi la tua opinione nei commenti.